Anche questo Natale se n'è andato, abbiamo mangiato veramente come degli affiamati, almeno per quanto mi riguarda però siccome molti di voi saranno sicuramente in ansia per gli eccessi che avete fatto durante queste vacanze di Natale ve lo dico subito, non vi angustiate, le calorie prese dal Natale a Capodanno normalmente non contano non influiscono nemmeno per quanto riguarda la buona salute di noi atleti anche se credo sia giusto essersi goduto le feste, rilassarsi un po', stare in famiglia, anche fare qualche brindisi in più e insomma concedersi anche qualche stravizio comunque se volete si può ripartire già subito con una moderata attività fisica ritornare alle vecchie abitudini alimentari ovviamente mettere da parte subito dolci, alcolici in modo che il nostro organismo possa essere subito pronto per rimettersi in riga per quanto riguarda il peso forma altra cosa molto importante, cercate di abbinare poca carne alla vostra dieta in particolare nel post vacanza e aumentare invece il consumo di pesce le proteine anche in questo caso sarebbero meglio vegetali piuttosto che animali quindi sono molto consigliati i legumi un'altra cosa da non fare mai, anche se i sensi di colpa sono altissimi, è quella di digiunare meglio mangiare poco ma cadenzialmente durante tutta la giornata che improvvisare strani e pericolosi digiuni quindi ragazzi, calme su anche freddo, è giusto essersi rilassati un pochino durante le feste natalizie non muore nessuno se abbiamo fatto un brindisi in più o se abbiamo mangiato una fetta di panettone in più l'importante è prendere queste feste nel modo più tranquillo possibile visto anche l'annata tremenda che questo 2020 ci ha regalato d'altronde noi non siamo dei professionisti, ci possiamo permettere anche il lusso di goderci il Natale con la famiglia detto questo ragazzi adesso vi aspetto tutti in bicicletta perché dobbiamo smaltire i panettoni noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!